Questa visione oristica della gastronomia è quello che ha spinto noi a realizzare l'università di scienze gastronomiche a Pollezzo. E io molte volte, ci sono degli studenti, qui c'è anche uno di Rivalta, che quando partono da casa loro mi dicono, ah, vai nell'università, mangi bing, mangi e bevi, penso che vengono l'acqua a spadellare. Invece vengono lì, studiano chimica, studiano geografia, studiano antropologia, studiano biologia. Per questa visione, ripeto, olistica, non monocorde, non solo ricette, ricette, ricette. E anche nella coscienza che la gastronomia è innanzitutto la scienza più importante della nostra vita. Perché? Perché noi siamo viventi perché mangiamo. Se qualcuno ha una teoria diversa, venga a spiegarmelo. Ma non c'è ombra di dubbio. E anche questa visione per cui oggi tutto questo Circo Barnum è pieno di chef maschi, è antistorico, incredibilmente antistorico. Perché? Perché le fondamenta della gastronomia sono state realizzate da milioni e milioni di donne che senza neanche ricevere grazie, perché questa è una delle grandi caratteristiche che distingue gli uomini quando si secco dalla sera, che arrivano dal duro lavoro, spiegarmo le gambe sui tattà, mangio, diso niente. Ma dissi, grazie, eh? Cosa ti costa? Diggi che è buono? Cosa ti costa? Milioni e milioni di donne che in ogni angolo del pianeta, con poche cose, hanno fatto i più grandi piatti della gastronomia. Perché è comodo fare la grande gastronomia con ogni, con qualsiasi cosa che ci metti dentro. Ma pensate voi, quelle donne, quella donna che ha inventato la posta è un monumento, un monumento, non esiste. E aveva solo quello, e aveva solo quello. Questa visione della gastronomia e questa attenzione, non solo per l'importanza di genere, ma anche per la importanza, si diceva prima giustamente, della sapienzialità dei nostri contadini, dei nostri vecchi, che avevano una dimensione di vita che era molto meno fortunata della nostra, e io non rimpiango i venti e patichi perché erano anche tempi di violenza e di miseria, ma forse abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca e siamo diventati così ricchi e arroganti che pensiamo di essere più furbi. Dopodiché ci accorgiamo che tante pratiche e tanti elementi di sapienzialità i nostri vecchi ce l'avevano e li praticavano. In fondo non siamo venuti al mondo per accumulare, accumulare. Siamo venuti al mondo per vivere felici. Ed ecco allora che ci sono dei valori che non vengono contati nella crescita, ma lo sono educazione, salute, socialità, benessere spirituale, morale, convivialità, che il PIL non li calcola, non li calcola il PIL, ma li calcola che cosa? Li calcola una comunità intelligente. E badate bene che siamo nel pieno di una crisi che non è mica ancora finita, sapete? Stiamo entrando nel settimo anno. Tutti che diso la crescita, arriverà la crescita, arriverà. Questa è una crisi profonda. Non è una crisi come le altre. È una crisi, è una crisi entropica. Non è una crisi lineare. Le crisi lineari nella storia sono determinate da alcuni parametri che non funzionano e che si possono mettere a posto. Consumi bassi, implementiamo i consumi, usciamo dalla crisi. Ma qui non si implementano i consumi. Non si implementano. Perché? Perché è una crisi entropica. Ora, sbaruevene è perché termine di una semplicità unica. L'entropia. Proviamo a vedere che cos'è l'entropia applicata al sistema alimentare. Io produco, o i nostri artigiani che sono qui presenti, producono la tuma di Rivalta. o la carne, o il latte, eccetera. Il cibo è energia per la vita. Se io non mangio, non ho energia per vivere. Allora, se il cibo che produco vale 100 di energia e io per produrre quel 100 di energia ne consumo 400, un anno, due anni, dieci anni, alla fine paghiamo il dazio di una crisi entropica. L'entropia è esattamente questo. Spendiamo più energia per produrne poca. E siccome i conti devono tornare, quando arriva a un certo livello, non è più sostenibile. Forse sarebbe importante utilizzare nuovi paradigmi. E lì, lasciatevelo dire, la politica è silente. La politica non parla. La politica non dice niente. Noi per uscire da una crisi come questa abbiamo bisogno di nuovi paradigmi. Che cosa è successo? Che tanti di questi nuovi paradigmi si insediano i contadini di terra madre. I contadini di terra madre. Nelle loro realtà, in alcuni casi anche di povertà, ma con la loro dignità. Vi vedete, no? Vengono con i loro costumi orgogliosi. E il più grande valore di terra madre, sapete qual è? Il fatto che tornano tutti a casa con un grande senso di autostima. e si domandano, ma perché mi hanno invitato? Sono partito dalla Mauritania, dalle Ande Peruane, dalla Patagonia, dal Tibet. Sono arrivato a Torino, ho visto questa umanità, questa rete di 175 paesi del mondo. e poi sono andato in quella città che mi ha ospitato, sono stato con le famiglie. Perché? Perché? E noi perché gli diciamo, ma perché? Col tuo lavoro difendi i semi, difendi la biodiversità, lavori per la comunità, hai un ruolo. Allora questi tornano a casa, ma vedete, non vi immaginate cosa fanno, come cambia l'economia. Questa moltitudine torna a casa con una forza che è la vera forza di Terra Madre. Edgar Morin dice tutto deve ricominciare e tutto è già ricominciato. Tutto è già ricominciato. E questo ci ha anche insegnato Terra Madre nel vedere che queste pratiche e queste idee condivise sono condivise in tutto il mondo. che se esiste come esiste una globalizzazione spietata di finanza canaglia, di arroganza nei confronti degli umili, gli umili, viceversa, incominciano a organizzarsi come una globalizzazione virtuosa e fanno rete e lavorano. Questo è quello che ci ha insegnato Terra Madre. E il fatto che io sia qui stasera a confrontarmi con voi, ma anche con le famiglie che hanno ospitato Terra Madre, i delegati Terra Madre, non è solo per dire grazie, ma è per dire che questo atto di ospitalità è un atto politico importantissimo e genera amicizia, che è il seme della pace, il seme della comprensione. Grazie a tutti.